Quando mi è stato chiesto di fare questa registrazione ho pensato a quali sono stati i momenti salienti in questi quasi 30 anni di carriera CUP 2000. Ho pensato al primo giorno in cui è stato attivato il servizio CUP e ho pensato alle gestioni delle sedi che avevamo fuori Emilia Romagna, ho pensato alla rete sole e alla grande rivoluzione che è rappresentata per i medici in generale e ho pensato al fascicolo che da quella rete è derivato e alla grande rivoluzione che è rappresentata invece per i cittadini. Ma dietro queste grandi idee che hanno portato a uno stato di avanzamento straordinario questa regione e alla realizzazione di questi grandi progetti ci sono le persone, ci sono le persone che quelle idee hanno recepito, che quelle idee hanno progettato, sviluppato, realizzato e gestito. Questo per me è CUP 2000.